La giuria all'unanimità raccomanda l'onorevole ministro quale capitale italiana della cultura 2024, la città di Pesaro. La capitale italiana della cultura 2024 è Pesaro. Sfuma così il sogno di Mesagne, ma il verdetto della speciale commissione del Ministero della Cultura non ridimensiona assolutamente né il progetto, né le ambizioni di una città che in questi mesi è riuscita ad accreditarsi per il suo percorso di riscossa. Ne è consapevole il sindaco Tony Matarrelli che in questo progetto continua a crederci. Noi abbiamo vinto nel momento in cui abbiamo partecipato, nel momento in cui abbiamo creduto di poter essere capitale della cultura. Mesagne 2024, non a caso, se osservate il logo, non c'è scritto candidata capitale della cultura perché per noi il Mesagne 2024 rimane un obiettivo da raggiungere. Pesaro è una città importante, è una città di Giochino Rossini, è una città più grossa di noi. Raccontavano prima che in pratica tutte le vincitrici in passato erano tutti capoluoghi di provincia. Eh sì, anche in questo caso è così. Però credo che Pesaro abbia vinto con merito. Noi ripartiamo da questo patrimonio che abbiamo costruito, un patrimonio che ha fatto leva su una partecipazione senza precedenti. Quindi tante energie, tante risorse che sono messe insieme per costruire un'idea di cultura che vale, che rimarrà nelle nostre determinazioni. Cioè noi continueremo, andremo avanti.